Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, una notizia decisamente che lascia abbastanza perplessi. Già lo immaginavo che sarebbe finita così, ma non così velocemente. Il Tribunale dei Ministri archivia l'inchiesta contro Conte, Speranza e gli altri. Sapete che per quanto riguarda Conte e Speranza l'autorizzazione andava a un tribunale ministeriale solo per Conte e Speranza. E il Tribunale dei Ministri ha detto fermi tutti. Nulla si sa davvero sull'origine della pandemia. E' dunque impossibile provare comportamenti dolosi da parte dell'allora maggioranza di governo. Intanto i giudici e la Procura della Repubblica di Bergamo avevano portato avanti questa inchiesta. Il Tribunale dei Ministri però archivia la denuncia cominciata con i familiari e delle rappresentanze sindacali di base che avevano chiesto di indagare sui vertici del governo per la diffusione del Covid-19. In nessun modo, dicono, l'epidemia può dirsi provocata dai rappresentanti del governo. Ma l'inchiesta di Bergamo non era atta a dimostrare che l'epidemia è provocata dal governo. No, non c'entra niente l'epidemia provocata dal governo. L'epidemia non frenata dal governo. Sono due cose completamente diverse. Ma l'archiviazione arriva per Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri e Alfonso Bonafede, titolari di una serie di provvedimenti nel corso dell'emergenza pandemica. Impossibile imputare alcunché ai rappresentanti del governo, dice il Tribunale. Deve ribadirsi che, soprattutto in una situazione di incertezza come quella sopradescritta, non era esigibile da parte degli organi di governo l'adozione tut court di provvedimenti in grado di impedire ogni diffusione dei contagi, che non tenessero conto della necessità di contemperare interessi diversi e in particolare la tutela della salute e la tenuta del tessuto socio-economico della collettività. I giudici non ravvisano ipotesi di epidemia colposa, plurima, ipotizzata dai denuncianti. Per verificare la colpevolezza si dovrebbe conoscere la genesi del contagio delle singole vittime e stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio che misure di contenimento che non siano state adottate dal governo o disposte in ritardo avrebbero evitato il contagio o l'esito letale. In altre parole mancano i presupposti stessi sotto il profilo giuridico per contestare alcun reato. Cioè mancano le prove inconfutabili che quello che è successo con la mancanza dell'istituzione delle zone rosse sia imputabile a Conte e a Speranza. Gli strumenti scientifici, dicono, non sono in grado di accertare tali circostanze e non è possibile escludere responsabilità dei terzi considerato che la diffusione del virus dipende in buona parte da comportamenti virtuosi della collettività. Impossibile accertare una responsabilità penale anche sotto il profilo omissivo. Non è dimostrato infatti che l'adozione di ulteriori misure di contenimento avrebbero evitato il contagio a quel certo numero di persone. La posizione dell'avvocato Vincenzo Perticaro, che è dalla parte assiste i denuncianti, per Asia USB, dice La dimostrazione che avevamo ragione C'è la procura di Bergamo dove abbiamo depositato la nostra denuncia con esiti diversi. Intanto anche il nome delle due ex Ministre della Salute, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo, è finito nel registro degli indagati, ma questo lo vedremo poi più avanti. Al momento la posizione di queste persone per quanto riguarda l'accusa di epidemia colposa viene stralciata, ma rimangono in piedi altre accuse, quelle del piano pandemico. Però quella principale di accusa di epidemia colposa con poi le conseguenze che abbiamo visto i giudici dicono è impossibile imputarle a questi politici. Noi non sappiamo, non c'è nessuna prova che se avessero chiuso quelle zone sarebbe andato diversamente. Per ogni persona che si dice che gli è successo per causa loro bisognerebbe per ogni persona avere delle prove inconfutabili sulla colpevolezza di Conte e Speranza. E queste prove non ci possono essere né ora né mai perché è un esercizio ipotetico e se, e se, e se, e se. Allora non avevo dubbi che sarebbe finita così non pensavo però così velocemente pensavo ci sarebbe stata poi una richiesta per procedere contro questi politici in Parlamento e invece dopo pochi giorni viene già praticamente cancellata questa accusa per il governo. Ma si apre un'altra indagine, ci sono altri nuovi indagati e ve lo racconterò, credo, nel prossimo video. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo più tardi. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie. Poi questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete li trovate condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.